Vittorio Anche, il nostro Giancarlo e poi c'ho Amarone perché non c'è più nessuno di giro di giro Gioacchino, scusa mi ha detto Giancarlo, un amico che si chiama Giancarlo Vandorone Ponte di Confo, ci sta nascendo in più e questa canzone che io non la conoscevo ma l'ho imparata e se Luzio mi accala in sottofondo perché la devo iniziare io grazie Luzio, un bel applauso per Luzio Fabricino che ci sta facendo suonare anche questa sera e la dicevo, questo è un pezzo famosissimo da Luzio, io ammetto la mia ignoranza ma la conoscevo, l'ho studiata, una versione anche difficile perché la devo iniziare io e quindi visto che la devo iniziare io è quella che inizia con And I'm called Mr. Toy, I'm gonna get you to know how much better This Christmas, and I was written on the tree How much better is gonna be together This Christmas, and I was written on the tree Oh, we can't feel tonight And this Christmas will be a very special Christmas for me This Christmas, and I'm gonna be a story My name! Come on, yeah! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti